Ed eccoci qua di nuovo, benvenuti da Pionata, 17 episodio dell'Ombra di Mordor Nell'ultima puntata ci siamo concentrati su tutte le missioni secondarie Voglio fare la stessa cosa anche oggi Mi sono rivisto, ho visto che sono morto, si Capita mentre volete provare a fare un po' i simpatici e siete lì che dovete uccidere tante persone Mi capita, mi è successo già in un'altra missione che praticamente non leggo quanti me ne mancano da uccidere Penso di aver finito la missione, non so perché ma a un certo punto ho deciso Sì sì, l'ho passata e quindi comincio a fare cose strane, volevo scappare dalla caverna e alla fine ho fallito la missione Allora, vediamo un po', missioni secondarie Qui manca una missione con la spada, una con l'arco, un monile e una stella Ok, proviamo a fare questa e se ci resta tempo magari vediamo di finire anche qualche altra parte della mappa Andiamo La cosa, io potrei continuare a andare lì a fare la missione principale prossima Ma sinceramente credo di essere un po' indietro con le abilità e cose del genere Non so cosa mi aspetti, magari faccio la fine dell'altro gemello che pensavo chissà cosa trovare Alla fine ho trovato qualcosa di fattibilissimo Comunque, andiamo avanti Dopo aver maledetto i nemici le sofferenze portarono una fine rapida alle loro sofferenze Ok, quindi qui ci sarà qualcosa da fare con l'arco Divertiamoci Tiri rapidi per ucciderli Sono quello che è sopravvissuto più a lungo Ok Eh, magari qui sarebbe stata meglio farla Con un mouse Non so quanti Quanti io ne debba uccidere Ok, fatta Comunque ce n'è da fare con il mouse Magari sarebbe meglio Fare queste missioni con il mouse Perché mira meglio con l'arco probabilmente Allora Prossima festa Ce ne andiamo qui Dov'è che sta? Oh, vediamo se il monile era più vicino Attenzione, un attimo solo Il monile Eh, dall'altra parte della mappa Chissà che succede lì in fondo Vabbè, allora andiamoci a fare questa missione con la spada Sarà sicuramente un altro attacco di quelli Dove farò sicuramente macelli Aspetta Ecco il ramingo Inseguiamolo Inseguitemi ragazzi Cosa c'è? Un fiorellino? Ok Ok E in alto Oh, prendo le frecce Sbagliato tasto Ok Cavalca tra i loro figli in sella una bestia mostruosa Facendosi largo come una lama E diffondendo il terrore Perché si è resettato Ovunque andasse Ok Quindi a cavallo di un Karagor Immagino Cavalca un Karagor Karagor In andarmi una mano Eeeh Oh Ok Dopodiché Uccidi le tre guardie di battuglia Prima che il tempo finisca Eh, sono lontane però Corri, 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 corri Quindi è una missione di corsa questa? Il martello è il figlio di Glob Piuttosto di morto Ah, quindi devo uccidere 5 Uruk con i morsi? Eh, magari pian piano se ne incontriamo qualcuno per strada Lo facciamo Vado ad accendere il segnale Dai, oh Eh, dai Mamma, magari mi sa che Perdiamo troppo tempo E il Karagor mi ci sta anche per morire Lasciamo perdere Oh So se mi muore il Karagor Se la missione fallisce O se magari basta prendere un altro Ok Esagerato Ok 500 piedi 500 piedi Abbiamo un minuto Penso di farcela Corri Corri, 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 corri Ok 400 XP 150 monete Prossima missione Siamo arrivati qui in fondo Quindi torniamo qui Vediamo un po' in questa parte della mappa Cos'è che mancava fare Prendere un monile E trovare una stella Ok Vediamo dove sono La stella è qui Vicino a quella missione Quindi magari poi la agganciamo a quella missione Andiamo a prendere questo monile Anche se mi sa Che per strada succederà qualcosa Lo vedo un po' strano Che possiamo camminare fino a lì Senza problemi Wow Ok Vieni Prosciughiamolo Ok Ok Probabilmente ci sarà in giro qualcosa Vediamo se questo è il percorso giusto Lì c'è un fiorellino Andiamo a fiore Sempre sperando che faccia parte della sfida Sembra di no Vabbè Andiamo avanti 480 piedi 450 400 piedi Questa somiglia a quella grotta Dove c'era il graug Gigantesco L'unico cibo rimasto È una cassa di pesce marcio Ci sono un po' di soldatini È una cassa di pesce mario No Oh 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 Ok Che è succedo? Un Weiser? Ciao amici Andiamo avanti Ci avviciniamo, avviciniamo Ma giriamo in tondo Vediamo quest'altro fiorellino Già che sono uscito No, non sono uscito Però sto andando in una direzione Beh, non lo so Vediamo un po' Un altro fiorellino Dai, sali su Eh, qui mi sa che ci siamo stati in qualche modo Eh, trovare la strada per quello è un macello adesso Qui non c'è niente Vediamo se qui magari c'è una biforcazione Eh, forse devo salire qui su Questo primo da sotto Vediamo un po' Oh Sembra di sì Sembra che la direzione sia giusta Ci sono un po' di carcasse di morti Ok, presa Ti ricordi di me? Ah, ma che? Cambio di programma ragazzi Ora comando io E faremo a pezzi la mano nera Non scordarti di me! Ah, beh La mia memoria non è il massimo Ok, grazie Trovate un altro manufatto Potenziamenti Potremmo sbloccare una runa O prendere più concentrazione Mmm, ci penso Allora Qui che cosa manca? Prendere un fiorellino Rosso Ah E sulla mia mappa Basta vedere quello Ok E uccidere 5 creature volanti Mmm Ok Allora Vabbè Facciamo un avanzamento veloce Quindi quando vedete sulla mia mappa Un bel fiorellino rosso Come può il genere umano Sperare di respingere gli Uruk? Sono pervasi di puro odio Insegneremo loro Quindi Oh Quindi Vado a selezionarmi questo Non questo Questo Ok Cos'è la paura? Così facendo Ridaremo speranza alla terra di mezzo Questo è verde Quindi non è lui Non è il nostro fiore Quello rosso? È lui? Ah, c'è uno con l'informazione Gli schiavischi delle miniere Devono far lavorare i pelle molle Più sodo Sì Al furiere non piace dover aspettare La tua mola ha passato mezzo Siamo troppi per te E due due Ah, ogni volta sta cosa Non voglio ammazzare te C'è qualcuno che non conosciamo per niente? Tu, tu, tu Eccolo qua Ok Ok Qua la direzione? Lì Ah, lì in sopra Benissimo Andiamo lì sopra Lì c'è un altro filo Quello giusto? No Ah, eccolo lì Eccolo lì L'ho visto sulla mia mapa Eccolo lì È di strada pure Benissimo È questo Ok Quindi qui sta Da qualche parte Sta in alto Sta la nostra stella Sai che è sul muro Dall'altro lato Oh Troppo la visibilità In questa Eh, non si riesce a salire di qua Che miseria Vediamo di qua Come si fa? Forse così? No Cosa diavolo sta facendo? Ok Vediamo se così si sale Forse di qua Ok Finalmente ho trovato Ah, siamo tutti qui Anche la missione dei ribelli Sì, grazie Ok Andiamo avanti Quindi finita un'altra parte di mappa Si prendono un po' di Di punti E qui c'è la nostra missione Proviamo a farla Ok Ok Allora, dov'è quel verme di un targ? Tenete gli occhi aperti, dice il capitano. Ma io non vedo niente. Passi la guardia per un secondo. Ti faremo a prenderli. L'ho trovato. Inseguiamo. Forza. Infilceremo la tua testa su, palo! È piovuto dal cielo! Miladro! Grazie mille, Ramingo. No! 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 Nessuno ti salverà! Nessuno ti salverà! Senti il palo! No! 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 L'accampamento delle Fauci non venga unito al nostro, altrimenti la concorrenza peggiorerà. Essere promossi è già abbastanza difficile. Ancora non riesci a restare in piedi, chiamo... Ho sentito qualcosa? Grazie al cielo. Ho visto qualcosa muoversi. Qualcuno l'ha ucciso! La tua testa è mia! La tua testa è mia! La tua testa è mia! Non sento più i piedi, ma troverò la forza per correre. Grazie, amico. Ok, avevo messo muto il microfono, non so da quanto tempo, scusate. Comunque, posso sbloccare un'abilità, vediamo un po'. Allora dice, altre due frecce, abbiamo 1010, 1050, no, io andrei per la salute allora a sto punto. Quindi, vediamo un po', questa parte di mappa stavamo facendo, giusto, sì, quindi è pulita. Vediamo la prossima parte di mappa, questa. Ehm, mancano due missioni e un po' di roba da prendere, questa mancano due cose da prendere, cose da prendere. Quindi, andrei qui. Eh, chissà per quanto tempo non c'è stato nessun commento. Vabbè. Non fa niente, immagino, spero. Allora, qui che cosa devo fare? Raccogliere monili. Quali saranno? Beh, immagino siano questi. Quindi, raccogliere monili e stelle. No, volevo risucchiarlo. Ok. Dove si trova una runa che, se esplode la testa, fa qualcosa, perché vedo che ne riesco a fare abbastanza in giro. Magari ce l'ho già. Fai controllo. Cos'è quello? Ma non l'ho mai visto. Cosa diavolo è ossicona a freccia così? Semplicemente quel tipo di nemico? Sì, era semplicemente un nemico, ok. Oh, 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 oh. Qui si può salire? No. No. Sai che non è qui? Beh, sì, posso fare il giro intorno qua, ok. Scusate, il giro a lungo. Dopo una battaglia ci vogliono cibo e grotto. Invece... C'è qualcuno. Tu sei liga. Ok. Vediamo po'. Già che conosciamo tutti di tutti. No, c'è questo bel signorino qua. Il piagnone. Ok. Ah, qui abbiamo un monile molto vicino, eh. Oggi sarebbe tutto molto più facile, con un po' di grog in più. Grog? Vuoi del grog? Non hai fatto nulla per meritartelo. Se ne avessi un po' vi verrebbe voi del cu... Ah, è lì sotto. Dove? Ci sono troppi uruti che parlano delle sue stregoneglie. Non può essere solo una storiella. Sì, puzza anche a me. Ma il piaciuto. Dov'è il monile? Dove diavolo è? Forse è un piano più in basso? Cioè, ci siamo su praticamente. Ma non lo vedo. È sotto qui? Eccolo qua. C'è qualcuno che si nasconde. Corno arrugginito. Non lo trovo. Dove diavolo sta? Dove diavolo sta? Mi vibra qui, ma... Eh, brutta sta cosa. Ah, è qui. Ok. Non vedo dove. Ah, eccolo all'interno. Lo benissimo. E che i nani attaccheranno da quel lato. Forse potremmo abbandonare queste schifose paludi e tornare a casa. Ieri il nemico ha chiesto un incontro. Abbiamo visto il suo emissario che arrivava. Un'orribile sagoma nera su un cavallo nero. E affiancata da due esseri enormi. Anche loro in nero. Non gli è stato permesso di cavalcare in mezzo a noi. Per impedirgli di osservare la nostra disposizione e riferirla al loro malvagio padrone. Invece un gruppetto di elfi e uomini gli è andato incontro. Non abbiamo sentito cosa hanno detto. Ma... Non ci sarà pace. Nell'accampamento si mormora molto. Sembra che la bocca dell'emissario fosse bruciata dalle parole di Sauron. E che pronunciarle gli causasse un enorme dolore. Ha promesso solo schiavitù e fatica. E devo dire che ci credo. Non posso fare a meno di pensare che non entreremo mai a Mordor. Ci attende solo la morte. Ben ricordo. Ok. Potenziamenti. Forse adesso possiamo sbloccare un po' di saluto in più. Sì. Lo faccio. Prossimo. 2100. Mazza. Abbiamo anche un punto abilità. Colpo di grazia. Pugnali. Violenza. Ah. Uccisioni con violenza. Sì. La prendo perché c'è una missione o avviso secondaria che si può fare. Solo se si ha questa. Ok. Allora. Dobbiamo prendere quella stella. Sono solo ratti. Virael diceva di aver visto degli spettri nelle palù di morte. Credevo fossero solo le sue paure. Morti insonni. Uomini dell'ombra. I morti. Mordor li chiama tutti a sé. Agli altri. Ok. Abbiamo trovato anche questa. Andare a caccia di Graugio. È l'esercizio migliore che ci sia. Però non appartenevano a questo? Eh no. Quindi. Sì. Allora non li vedo. Strana sta cosa. Quindi questi erano proprio di un'area a parte. Ci sono ancora questi due. Ma faranno parte di questa? Eh sì. Vabbè. Andiamo lì. Oppure magari ci facciamo un piccolo scontro per il potere. Vediamo qui che c'è. Vendico la morte di Viven007. Ok. Quindi non sono amici. Duello. Naruk pidocchioso. Qui chi c'è? Banchetto. Bah. Non lo so. Uno vale l'altro. Andiamo a fare questo. Quindi magari chiudiamo così. Con un bello scontro. Così a caso. Ok. Ho trovato una pianta. 90 piedi. Tempo sarebbe scaduto. Quindi vabbè. Vediamo un po' questo nemico come siamo messi. Allora. Allora. Argellatore. Lo conosciamo? Questo no? Mal destro. Vulnerabile bestie calcate. Paura di bruciare. Paura di carico. Paura di grafico. Paura di bruciare? C'è un fuoco lì, se non sbaglio? No. Ah, ci sono due fuoco. Vediamo se si avvicina un fuoco. Grazie amico. Ah, non posso fare interrogatori? Vabbè. La runa. Morto. Scappato. Sa cosa è strano? Ogni tanto, invece di morire, gli dà per scappati. Vabbè. Ma. Quindi non vale come uccisione quando è che... No, morto. Oh, dai numeri. Ok. Pieglierei la runa. Prima che dimentico. E direi che può bastare per quest'altra puntata. Ragazzi, grazie per l'attenzione come sempre. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, non vi è piaciuto. E fatemi sapere se questi ultimi episodi dove mi sto concentrando sulle missioni secondarie vi piacciono o meno. Grazie, alla prossima puntata. Grazie, alla prossima puntata.